I see trees are green, red roses too, I see they're blue, for me and you, and I sing to my sing, for the wonderful world, I see skies are blue. Queste mamme professioniste che piuttosto che stassene a casa a pensare ai loro ragazzi, a pensare alla scuola, siete qui a manifestare un malessere, un malessere che riguarda tutta la scuola, in particolare cosa? Siamo state dimenticate da questo governo, fuimo di missioni, ruolo e noi a casa, noi facciamo parte della scuola dell'infanzia, da 20 anni precari e da 20 anni all'interno della graduatoria ad esaurimento, quest'anno in attesa, perché toccava a noi, nessuno parla di noi, abbiamo aspettato lo pseudo progetto 06, ne hanno tanto parlato, non conoscevamo assolutamente i criteri di questo progetto, da un lato eravamo fiduciose perché comunque noi, essendo lo zoccolo duro della scuola tutta, parliamo di scuola dell'infanzia, devono assolutamente passare prima da noi i bambini e quindi dico devono assolutamente prenderci in considerazione, ma quando? Quando? Siamo dopo 20 anni a casa. Senti ma questo è un applauso di sfogo più che un applauso di contentezza direi, insomma vi hanno anche tenuto abbastanza distanti, siete pericolose praticamente no? Ma evidentemente sì, ma non sappiamo perché, forse siamo state eccessivamente per bene, ci siamo comportati eccessivamente bene, ma adesso, ma assolutamente, siamo le mamme dei loro figli. Che stavi dicendo? Il problema è che secondo me c'è una volontà di non dare visibilità al nostro problema, perché in effetti a noi spetta, spetta il ruolo, come è aspettato agli altri, come è aspettato a chi ha fatto l'ultimo concorso ed è entrato di ruolo, ancora prima aspettava a noi, perché i concorsi li abbiamo fatti anche noi e parliamo degli anni 2099, quindi i concorsi li abbiamo fatti anche noi e siamo delle esperte ormai a scuola perché lavoriamo a scuola da più di 20 anni. Siamo in graduatoria da più di 20 anni, con concorsi vinti, con titoli, dico non ci manca nulla per entrare ma a che cosa dobbiamo aspettare? Cosa vogliono? Infatti ancora ci obbligano a fare dei concorsi, noi che già siamo vincitrici di un concorso ci siamo formate negli anni e quindi soltanto sono dei concorsi truffa perché noi non vogliamo togliere nulla alle nuove generazioni, ai laureati perché noi siamo le madri della nuova generazione però prima di continuare a fare dei concorsi tocca a noi che già siamo in questa graduatoria e che abbiamo vinto un concorso e che ci siamo formate e che abbiamo lavorato nella scuola Io vedo qui un deputato regionale, Figuccia tu dove ci sono manifestazioni sei presente e in questo caso dico c'è anche un distacco verso il popolo cioè non c'è soltanto manifestare su un diritto acquisito ma c'è di fatto questo distacco totale tra la politica e chi ci amministra insomma tenere queste mamme, alla fine sono delle buone mamme che non credo possano fare del male a qualcuno sono state spostate da 50 metri dalla strada questo è un segnale di non democrazia mi pare tra l'altro Tu sai il grande rispetto che nutro verso le forze dell'ordine e che ringrazio sempre da parte del Presidente del Consiglio utilizzare questo strumento per tenere lontane delle donne, delle professioniste, degli insegnanti che hanno 20 anni di servizio alle spalle è un atto di assolutamente codaria da parte sua Io credo al Presidente del Consiglio che invece venga qui ad ascoltare queste insegnanti perché non si può pretendere di trincerarsi dietro un palazzo non si può pretendere di trincerarsi dietro diritti negati qui oltre ad essere negati i diritti di queste insegnanti che sono state penalizzate alla 107 e che sono già state prese in giro lo scorso anno dicendo loro di avere pazienza e di attendere ancora un altro anno oggi vengono calpestati non solo i loro diritti ma anche i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza c'era l'allora Ministro Olivia Turco quando si fece il riferimento a quello strumento legislativo che era la 285 del 97 sono passati tanti anni questo Presidente del Consiglio evidentemente non sa che cosa significa passare dal consenso del popolo venga ad ascoltare questi insegnanti perché la buona scuola deve passare da questo queste insegnanti sono motivate e non si può pretendere che la gente stia a scuola educando, occupandosi delle fasi più importanti della socializzazione dei nostri figli con questo genere di motivazione loro sono comunque fortemente motivate però stendiamo loro una mano e facciamogli capire che lo Stato c'è questo è il governo degli slogan, non è il governo dei fasi perché bisogna dire no? bisogna dire no per salvaguardare la Costituzione così com'è per la libertà e per tutto quanto si può evitare di dare in mano ad uno solo come Renzi i poteri costituiti Vincenzo Figuccia tu sembravi più per il sì tempo fa no no è una buttuta naturalmente non è mai stato per il sì perché altrimenti andremo contro tutto quello che hai fatto ad oggi anche con i tuoi programmi perché ormai ti vediamo più in giro anche da conduttore di vita allora a Francesco concediamo tutto anche che dica una battuta siamo sempre stati per il no intanto siamo stati per il no e come vedi Renzi non ha neanche il coraggio di ascoltare le insegnanti della scuola che sono state discriminate invece di chiudersi dentro quel teatro a fare teatrini e marionette incontri la gente comune diciamo no perché nella fase della Costituente tutti i partiti in Italia si misero insieme per creare la Costituzione un pezzo bellissimo che è stato raccontato per tanti anni e che non si può modificare con un colpo di spugna ad opera di uno solo che peraltro non è mai passato dal consenso elettorale Peppe, l'UGL è pure in prima lina per il no di San assolutamente sì l'iniziativa è stata presentata lo scorso 10 ottobre alla Camera dei Deputati dall'On. Renata Polverini che è il Vice Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati per l'appunto da Stefano Cetica che è il Presidente del Patronato Enas in Italia che hanno lanciato questa iniziativa alla quale la nostra organizzazione sindacale l'UGL a livello nazionale in tutte le preferie ha aderito e oggi contemporaneamente in oltre 50 piazze d'Italia siamo scesi con i gazebo e distribuendo le nostre motivazioni per il no che cerco di sintetizzarle intanto perché la Costituzione è di tutti la Costituzione si può modificare soltanto con il consenso del popolo e non di pochi L'Accademia Nazionale Acconciatori Misti apre al Teatro Zappalà l'anno accademico 2016-2017 una manifestazione davvero importantissima a cui partecipano grandi parrucchieri, professionisti e apprendisti grande manifestazione qui con l'Accademia vengono coinvolti tanti artisti gente che contribuisce allo sviluppo economico del territorio qui con il grande maestro Madonia in corso della Tafim c'è l'altro che è il mio barbiere cosa hai da dire in tua discolpa? si vede comunque che sono stato il tuo barbiere in questa bellissima manifestazione hai cambiato anche il tuo look oppure abbiamo, l'ANAM ha cambiato il look del nostro caro tu sei stato l'artefice del campionato oggi sì, spero anche domani dunque l'ANAM di Palermo ha organizzato questa manifestazione che presenta dei campioni dell'estetica si, 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 presenta campioni dell'estetica che sono anche i migliori acconciatori tra cui c'è anche il campione del mondo che sta facendo un'esibizione e che a sua volta parteciperemo anche al campionato nazionale a Torino il 28 novembre tra cui ci sarà anche la sua presenza per pubblicizzare anche la nostra accademia che sia l'ANAM dici, qual è stata la tua esperienza e qual è ancora tuttora la tua esperienza all'interno dell'ANAM? allora, la mia esperienza all'interno dell'ANAM è stata in passato e ancora faccio parte anche adesso dell'ANAM però non sono un maestro operante per il momento a novembre saremo presenti ai campionati nazionali per quanto riguarda la tecnica e il bombè ci saranno presenti anche i nostri posso fare nomi degli altri partecipanti che sono Pietro Madonia, Marco Ganci, Andrea Ganci e Paolo Caruso e abbiamo il piacere di intervistare quello che è stato il campione del mondo degli acconciatori e che viene proprio dall'ANAM buonasera, grazie per la vostra intervista per me è stata una grossa soddisfazione ma come dicevo prima con l'Onorevole credo che basta un po' di buona volontà un po' di umiltà per raggiungere determinati obiettivi è solo la forza di volontà che ci fa raggiungere certe come si dice, certe mete come è stato esibirsi sul palco del Teatro Zappalà? allora, più che altro è tutto divertente meno male che è largo perché almeno Roberto ci è andato bene perché lui ha primi di spazio paro, ecco Brancati e Pepoli, questo è il vostro nome d'arte? sì, diciamo Brancati e Pepoli io volevo Pepoli, Brancati ma lui dice, no, Brancati e Pepoli fai tu, farlo contento perché chi non ci sia sempre è stato molto bello questo evento è stato bello vedere tutti questi soprattutto imprenditori che lavorano nella nostra città credono in quello che fanno veramente sono degli ottimi professionisti allora, l'ANAM organizza dei corsi di formazione professionale istruisce allievi ma anche già professionisti sì, l'ANAM non fa i corsi di formazione professionale l'ANAM per sé stessa è un'accademia pertanto direi che siamo in un'accademia in cui andiamo a perfezionare gli operatori del settore che già operano ma da noi arrivano dei ragazzi che terminata la scuola dell'obbligo iniziano il percorso della vita artigianale per il parrucchiere oggi l'ANAM forma il parrucchiere per uomo e il parrucchiere per donna perché come si sa già da legislature nelle nostre licenze non esiste più il parrucchiere però esiste il parrucchiere il parrucchiere è colui il quale opera in tutti e due i settori oggi l'ANAM già da tempo opera in tutti e due i settori settore maschile e settore femminile preparazione e professionale dunque l'ANAM potenzia le capacità dei professionisti? ne prende spunto, ne sviluppa le capacità ci cerca di rendere artigiani quelli che possono diventare artisti e dare una possibilità di quello che possa essere l'aspetto sia pubblico che anche europeo, mondiale lo siamo stati, campioni del mondo e speriamo di esserci sempre assolutamente una bellissima iniziativa insieme al presidente Vito Finazzo di questa accademia insieme a tanti amici a tanti professionisti, artisti ma anche operatori di un settore che è al centro dell'economia cittadina che dire, visto le loro esperienze la loro competenza non possiamo che avviare un percorso comune per stargli vicino loro sono persone che hanno tanto da dare e siccome il modo migliore per ricevere è quello di dare ci mettiamo in questo percorso Prende vita in via Cordova una nuova attività imprenditoriale Alvares Cafè quindi nasce da poco questo bar che avete inaugurato credo circa una settimana una settimana fa, sì ci parli di questo locale com'è andata questa idea? Io e mio fratello dovevo aprire un'attività abbiamo deciso di aprire un bar nessuno di due del mestiere perché noi abbiamo però una casa di riposo in via di Michelangelo quindi mio fratello fa aprire un bar siccome lui c'ha il diplomato di alberghero l'unica cosa che posso fare è aprire un bar Quindi vi siete gettati in questa nuova avventura? Certo, sì, sì C'è sempre la voglia di intramprendere nuove attività imprenditoriali qua a Palermo? Che ben venga soprattutto quando c'è la voglia di portare un sapore internazionale Alvares Cafè quindi credo sia una tradizione con origini Spagnole Una tradizione con origini spagnole che porta però vedo qui la tradizione italiana bere italiano, succhi di frutta come dire, con essenze naturali credo che questo sia il modo migliore per approcciare come dire un'attività di impresa nel nostro territorio proprio alle porte tra l'altro di questo 2017 che sarà l'anno europeo del turismo sostenibile e dello sviluppo in Sicilia che è una fase alla quale guardiamo con grande attenzione Noi sogniamo nel giro di poco tempo di poter coinvolgere attività come queste quindi bene la scelta di tuo fratello come si chiama? Giuseppe Di tuo fratello Giuseppe di investire in attività come dire, di carattere ricettivo collegate comunque al mondo dell'accoglienza perché bisognerà costituire un network di operatori che si occupano di accoglienza che si occupano di enogastronomia che si occupano di residenzialità capaci di affrontare il tema dei flussi turistici che da parte del nord Europa arrivano verso la nostra terra in considerazione al fatto che tra l'altro il nord Africa ha visto fortemente ridotti i suoi ingressi in questi ultimi anni e che quindi insomma determinerà opportunità sono certo di sviluppo per chi decide di investire in queste attività e quindi per tutto il territorio palermitano L'antica forneria Santa Rita di Via Auditore festeggia i suoi 45 anni di attività imprenditoriale e un'occasione organizza anche una serata benefica ci parli di questa serata? Beh, stiamo facendo una serata benefica sia per i nostri clienti che diciamo per tutta la gente che mi conosce da 45 anni e facciamo un rinfresco diciamo, un assagino nelle nostre specialità ecco, l'attività è fondata da 71 mio padre quando allora ha aperto questa attività con tanti sacrifici e adesso siamo a questo punto però state organizzando una raccolta? La raccolta per quanto riguarda un letto bariatrico all'ospedale poliglinico di Palermo Sì, sì, questa è la prima serata che stiamo organizzando appunto per la raccolta fondi per il nostro letto bariatrico speriamo che tutto vada bene ringraziamo l'antica forneria Santa Rita per averci dato questa bella possibilità e speriamo che in futuro anche altri negozi possano appunto affiancarci in questa bella iniziativa Dunque a questa magnifica attività che festeggia i suoi 45 anni si aggiunge anche l'esplettamento di un'attività sul sociale Eh, ma 45 anni sapete bene che sono mezzo secolo sono la metà di un secolo meno cinque anni una storia diciamo va detto così in maniera chiara e diretta per raccontare quella che è la realtà di un'attività che si è una piccola imprenditoria certamente, una piccola imprenditoria che si è realizzata negli anni che si racconta attraverso i sacrifici di più generazioni io credo che questo posto può essere al centro di quello che è un progetto che stiamo portando avanti del quale io sto parlando con lui che è legato al 2017 quale anno europeo del turismo sostenibile perché è chiaro che anche nelle nostre antiche borgate dove si assapora il ruolo e l'importanza delle tradizioni è sia possibile portare fuole, visitatori perché no, anche turisti per far conoscere questa antica arte del fare il pare che per questa bella famiglia inizia tanti anni fa e che continua oggi ancora a servizio del territorio Allora lei lavora ormai penso qui da tanti anni all'antica forneria Sì, ha più di sei anni che lavoro qui Ci racconti la sua esperienza? Io diciamo che lavoro circa 30 anni ho 30 anni di esperienza ma con il titolare Giovanni Bonanno a che ci conosciamo già da parecchio tempo 45 anni di attività imprenditoriale quella dell'antica forneria di Largo Fichero però a questo festeggiamento si accompagna anche una serata benefica Noi siamo qui appunto per festeggiare 45 anni di questa attività che nasce in un quartiere popolare e che racconta in questi lunghi anni le tradizioni di un popolo come quello siciliano quello palermitano in particolare che è assolutamente legato a tradizioni come quella dello sfincione che stiamo assaggiando proprio in queste ore ma anche piatti della tradizione culinaria come dolci tipici, le sfinge, i cannoli e quant'altro possa essere appunto tipico della nostra tradizione ma come diceva bene lei oggi siamo qui anche per promuovere un evento benefico che prevederà attraverso insomma la raccolta fondi che verrà effettuata oggi l'acquisto di un letto bariatrico il letto bariatrico per chi non lo sapesse è un letto capace di ospitare appunto persone obese che affette appunto da questa patologia che purtroppo diciamo viene poco riconosciuto dal sistema sanitario locale e che proprio a causa di questo mancato riconoscimento addirittura presso le strutture ospedaliere pubbliche troviamo un'assoluta assenza di mezzi necessari dal letto bariatrico che noi stiamo insomma volendo acquistare per alcune strutture ospedaliere alle bilance e a moltissime altre strumentazioni necessarie per la cura delle patologie legate all'obesità L'onorevole Figuccia G già ha attenzionato davanti alla regione questo argomento per me ovviamente come biologa nutrizionista molto importante la questione delle scuole di specializzazione da noi purtroppo mancano le strutture non solo ma mancano anche le scuole nel senso che per i biologi molte scuole sono non praticabili solo diciamo aperte alla scuola di medicina con un trattamento insomma diverso sia per i biologi che per i medici sarebbe bene sia per il diritto allo studio che per il diritto al lavoro riuscire a unificare la base delle scuole di specializzazione sia per la medicina che per il biologo Qual è stata la sua esperienza personale a livello di servizio sanitario locale? Io come servizio sanitario locale mi sono trovato benissimo ovviamente con le strutture private e ho fatto il mio intervento di pendaggio gastrico quattro anni fa grazie alla clinica Candela e grazie al dottore Massandrea perché la struttura privata, la struttura nazionale non mi dava nessun tipo di supporto né morale né di tempi di attesa quanto riguarda il mio intervento e facciamo tutto noi Allora, com'è lavorare in questa antica forneria? Mi ci trovo molto bene perché è una persona molto umile di cuore ed è molto buono e se ha un pezzo di pane lo condivide con tutti gli altri ed è una persona che il suo lavoro lo fa con arte e l'arte la fa diventare passione quindi un uomo veramente bravo Ecco, questa è una grandissima famiglia è una grande famiglia che è riuscita a radicarsi in questo territorio tanti anni fa d'altra parte il fare il pane è un mestiere antico che racconta le tradizioni, la storia la capacità di sudare attraverso il lavoro vero Partite da con questo corteo per protestare contro la ZTL Sì, esatto, perché ci sono stati molti disagi riguardo a questa introduzione della ZTL la gente qui non può arrivare nei mercati storici quindi il lavoro è diminuito nell'80% Direi che in questo momento questa situazione sicuramente non aiuta nessuno specialmente tutti i negozianti e quelli che come me per esempio hanno bisogno di muoversi con la macchina per motivi proprio di lavoro, di trasporto di utensili che servono per poter lavorare per poter andare nei negozi dei clienti Io ho un'agenzia funebre siccome ho un furgone che è Euro 2 sono andato, guardi che la macchina però ha fatto a 24.000 km la ruota di scorta mai adoperata, è nuova il furgone e allora sono andato per fare la ZTL mi hanno detto i signori di là dice guardi che questo non si può fare perché è Euro 2 deve essere Euro 4 dice allora che cosa devo fare con il furgone? ce lo deve buttare, che ne compra una nuova e mi dice i soldi che lo vado a comprare Purtroppo siamo inchiti e non si fa più niente non si sta morendo, ma la roba sta prendendo un'amministrazione comunale ormai allo smando con un sindaco Orlando che ha dimenticato tutta la sua storia mi dispiace per lui, la città sta morendo c'è uno studio fotografico in via del Celso dal 1948 che ha aperto mio padre adesso siamo nello schiuse finale con la ZTL chiuderemo i battenti ha aperto in via Lasquez e una volta un tempo fa, due settimane fa hanno messo la zona aria pedonale io la tela lo sono sceso non lo sapevo che mi dice vabbè può stare e poi gli vinciti di fronte in via Stabile che hanno subito la macchina preso il verbale per un pensionato uscito a 28 euro non so se è giusto e poi il carattere è pronto e poi portarlo mi voglia in un momento scendo le cose della macchina abbiamo preso già la multa io volevo chiedere proprio al sindaco dato che il suo benestare sta anche grazie a tutti noi perché se noi non paghiamo determinate tasse anche lui comincia a avere le proprie difficoltà di lasciarci continuare a lavorare e soprattutto garantire il futuro ai nostri figli voglio precisare innanzitutto che non sono un commerciante ma lotto per i commercianti perché non è giusto che ci siano qui a Palermo ulteriori disoccupati pertanto dico Orlando vai a casa giusto Catania vai a casa o altrimenti bloccate immediatamente la ZTL non sono una commerciante ma mi rendo conto che molta gente ormai è ridotta alla fame e quindi io lotto per loro perché non è perché a me non mi tocca e allora io devo stare a casa guardarmi tutta la scena io mi metto qui in piazza per la gente che ha bisogno per la gente che ha bisogno di poter vivere il signor sindaco e il signor giusto Catania hanno chiuso l'aria hanno reso l'isola pedonale il Lattarine i Lattarine la conoscono tutti in Sicilia perché è la zona più antica commercialmente parlando di Palermo ebbene sono state capaci di distruggerla questa manifestazione mi sembra alquanto giusta perché rappresenta proprio il malcontento della cittadinanza nei confronti di un'amministrazione che non solo non dà nulla ai cittadini in quanto vengono pagate tasse comunali vengono pagate tasse regionali per non avere nessun servizio da circa tre settimane il lavoro è calato siamo quattro operai più quelli che ci fanno lavorare fra poco non so se possiamo garantire onestamente e dignitosamente il lavoro ai nostri figli il pane ai nostri figli poter pagare l'affitto è tutto quello che ci arriva da pagare da 52 anni che sono a Ballarò ora sono costretto a chiudere io ho due impiegati purtroppo devono andareci in mezzo alla strada perché la gente a Ballarò non può più venire con questa ZTL siamo tutti in mezzo alla strada io le dirò che a Ballarò e tutti i mercati storici hanno la possibilità che con 10 euro fanno due giorni di spesa e non è possibile che noi stiamo facendo questo tipo di intervento perché effettivamente la zona ZTL ci sta rovinando io sono un libero cittadino però vorrei dire questo io non ci sto che i palermitani debbano passare per persone che non vogliono rispettare le regole cioè la ZTL però le cose si fanno con criterio per esempio Verona ha la ZTL ma ci sono ben quattro parcheggi attorno che sono totalmente gratuiti ho perso il lavoro e fatto la ZTL aveva un magazzino in via Alessandro Paternotto di borse e valigie ora siccome sono tutti i magazzini chiusi ho dovuto pagare 500 euro di tasse e purtroppo ho dovuto cedere il negozio perché non viene più nessuno a lavorare da Piazza Croce è partito questo corteo di protesta contro la ZTL la città è stanca è stanca perché evidentemente Orlando non ha fatto i conti col fatto che così non può funzionare tutti abbiamo capito che si tratta di un pizzo di un vero e proprio pizzo legalizzato la città sta reagendo Orlando era convinto che poteva fare tutto tenendo la situazione dentro le stanze chiuse evidentemente le cose non vanno così evidentemente la città si è svegliata oggi è da brivido ci sono tantissime persone per strada noi avevamo chiesto un referendum per la vicenda di Orlando lui lo sta tenendo chiuso dentro la stanza deve uscire perché se ha coraggio deve dire alla gente di potersi esprimere I see trees are green Red roses too I see them blue For me and you And I say to myself For a wonderful world I see skies are blue Iscrivitiati Grazie a tutti